Ok, benvenuti a questa seconda puntata in cui cercheremo di vedere come fare una macchinina e come fare, quindi data una macchinina modellata, quindi vedete che la modelleremo adesso qui è un esempio con gli smooth, ma la faremo anche più semplice in cui faremo un corpo centrale e poi faremo le ruotine con gli assi e poi vedremo invece come tutto ciò possa essere poi associato a una UVMAP vedete questa qua, che viene generata automaticamente da Blender sul quale ci proietteremo i colori con cui abbiamo progettato la macchinina queste sono tutte nozioni di base che permettono la texturizzazione da un lato e anche alcuni piccoli trucchi associati alla modellazione quindi vedremo anche alcuni operatori, alcuni trasformatori, modificatori che permettono di sottrarre degli oggetti uno agli altri comunque partiamo da 0 quindi partiamo da 0, vuol dire CTRL N quindi facciamo ok, quindi partiamo da nostra figura base abbiamo il nostro cubo, ci avviciniamo dunque questo cubo cosa facciamo? lo vogliamo semplicemente allarghiamo un pochino lungo l'asse dunque lo vogliamo fare una macchina una macchinina e vogliamo che la macchina abbia il cofano orientato lungo l'asse X quindi dobbiamo allargarlo lungo l'asse Y per farciò andiamo anche qua in Object Mode vedete e facciamo S quindi Scale e lo scaliamo lungo la Y verde quindi Y e lo scaliamo un po' in modo tale che venga un pochino lungo dopodiché selezioniamo andiamo in Edit Mode selezioniamo l'opzione di selezione faccia selezioniamo la faccia e cerchiamo di fare il corpo della macchina un pochino più lungarino dopodiché vogliamo fare il cofano davanti per fare il cofano davanti useremo l'estrusione l'estrusione si usa con il comando E la lettera E dello schermo della tastiera quindi facciamo E e automaticamente possiamo estrudere il cofano davanti andiamo dietro selezioniamo col tasto destro e facciamo E e estrudiamo la parte del cofano dietro vedete è un po' leggermente più corto ora estrudiamo ancora la parte quindi sempre con E premiamo E e estrudiamo la parte di sopra della nostra macchinina ora diamogli un attimo di forma leggermente più aerodinamica per farlo andiamo questa volta selezioniamo i lati e clicchiamo Z per vederlo in ai raggi X a questo punto selezioniamo con il tasto destro questo lato e poi con Shift selezioniamo anche tutto l'insieme ecco questo anello questo anello lo trasciniamo un pochino a destra in modo tale da dare un pochino di diciamo di questa parte qua davanti aerodinamica ok e la stessa cosa lo stesso mestiere lo facciamo sulla parte dietro quindi prendiamo sempre con Shift tasto destro selezioniamo questo e lo ruotiamo leggermente a destra poi se vogliamo dargli un'immagine un pochino più aerodinamica facciamo Z selezioniamo sempre sulle facce vedete che quando seleziono le facce compaiono dei pallini dei quadratini in mezzo selezioniamo la la testata cioè la parte di sopra e facciamo scaliamo S in modo tale da restringerlo un pochino in modo tale da dare un poccuccio di immagine così possiamo fare la stessa cosa per la parte anteriore quindi facciamo S ok avviciniamo col mouse poi diamo conferma col tasto sinistro del mouse e poi anche con la parte di dietro S ok quindi a questo punto è quasi più credibile anche se ovviamente è solo un abbozzo ora cosa facciamo ancora in questa macchina dobbiamo metterci le ruote allora per fare le ruote andiamo in object mode ci mettiamo magari di fronte quindi 3 togliamo la visione prospettica quindi vedete che ho premuto 5 quindi ho premuto il 3 del tastierino numerico e poi 5 per abilitare o togliere la visione prospettica ci mettiamo sempre con 3 e qui facciamo shift A e aggiungiamo un cilindro ora il cilindro vedete che è aggiunto in realtà si vede poco perché è coperto dalla macchina che ha 32 vertici noi lo facciamo con meno vertici per rispermiare un pochino di cose quindi è un pochino più diciamo neutro cioè più piccolo più rozzo ora proviamolo vedete che non è allineato correttamente quindi dobbiamo girarlo di 90 gradi lungo l'asse che non si vede qua che è l'asse X ok quindi per farlo dobbiamo ruotarlo abbiamo detto attorno all'asse X di 90 quindi premiamo R di Roma quindi facciamo R X che abbiamo detto la rotazione 90 e vedete che questo punto è allineato in maniera adeguata ora dobbiamo rimetterlo col centro esattamente al centro del nostro oggetto se ce la facciamo quindi uno dei modi è quello di allineare il centro con Alt G vedete che questo punto Alt G Alt di Genova sposta l'oggetto in modo tale che il suo centro corrisponda con l'origine quindi se noi facciamo S di Savona Y quindi lo allunghiamo lungo l'asse Y vedete che possiamo allungarlo e facciamo in modo tale che sporgano leggermente le ruote magari facciamo ancora leggermente Y un pochino ok quindi vedete che le ruote stanno sporgendo leggermente ora però prima di lasciarlo nella posizione giusta lo prendiamo un attimo a latere lo vediamo di lato sempre qua andiamo in Edit Mode e proviamo a cercare di fargli le ruote separiamo le ruote dall'asse che le collega per farciò in Edit Mode usiamo l'aggiunta di anelli allora aggiungiamo 4 anelli praticamente 1 2 anelli per delimitare le due ruote e 3 e 4 per delimitare diciamo la parte che fa proprio l'asse che le collega quindi usiamo un comandino che si chiama Ctrl R vedete che Ctrl R a seconda di come mi muovo aggiunge in viola degli anelli quindi noi per raggiungere le 4 basta che spostiamo la rotellina in avanti 2 3 4 ok poi confermiamo con invio e poi infine ancora un altro l'invio per confermare questi anelli ora questi anelli dobbiamo un attimino gestirli nel senso che dobbiamo ridurre il diametro di questi due anelli in modo tale che siano quelli di un asse per farciò clicchiamo A per selezionare tutto selezioniamo soltanto i nostri anelli questi ecco e facciamo un S quindi gli scaliamo però Shift Y quindi S Shift Y perché vogliamo ridurre questi anelli in maniera tale da ridurre la cosa attenzione che vedete che succede un problema perché non stiamo selezionando i lati nascosti quindi facciamo Ctrl Z abilitiamo con Z la visualizzazione ai raggi X e quindi rifacciamo la selezione in questo caso ho fatto la selezione con B vedete che con B ho fatto B e poi trascinato in questo modo seleziono un po' come in Second Life tutti i punti all'interno di questa selezione poi ripeto S Shift Y e riduco vedete che a questo punto si riduce praticamente al diametro che ci interessa per esempio facciamo questo ok dopodiché allunghiamo quindi facciamo questa volta S Y S Y per fare in modo tale che questo asse ecco vada praticamente e unisca le due ruote ok ora le due ruote vedete che sono diventate un pochino grosse quindi dobbiamo farle un pochino più piccole quindi facciamo A per deselezionare e selezioniamo quindi con B ad esempio selezioniamo questo con B selezioniamo questo e poi facciamo S Y per allontanare appunto le due ruote in modo tale in modo tale che siano di un pochino più diciamo normali ok quindi a questo punto abbiamo fatto la parte diciamo le due ruote anteriori ora facciamo Z per entrare insomma in questa modalità e cerchiamo di collocare CTRL Z ok andiamo in Object Mode e spostiamo le nostre ruote in modo tale che abbiano che vado a finire in un posto sensato quindi le mettiamo praticamente qua ad esempio facciamo sporgerle un pochino ok vedete che in modo tale da produrre questo effetto ok ora chiamiamo facciamo più qua vediamo un po' come si chiama questo oggetto questo pezzo di oggetto vedete che essendo partito da un cilindro si chiama cilindro e noi le chiamiamo invece ruote anteriori prendo invece sempre in Object Mode seleziono invece la carrozzeria questa la macchina che è partita da un cubo e la chiamo invece corpo macchina ok questo è giusto per ricordarci cosa sono queste cose qua ora il mio obiettivo è quello invece di ritagliare dalla macchina praticamente rimuoviamo tutti i vertici corrispondenti a queste ruote anteriori quindi si fa come si fa si seleziona in Object Mode della macchina si va nella finestrella degli modificatori eccolo qua si aggiunge un modificatore booleano che fa la differenza con le ruote anteriori e così vedete che ho fatto la differenza con le ruote anteriori e vi devo però ricordare di fare le play quindi così ho applicato e per vedere se ho fatto giusto basta spostare un attimo le ruote e vedete che è rimasta tutta la scanalatura nella macchina ora a lezione avevo fatto vedere come le ruote avessero 32 strumenti quindi sembravano perfettamente circolari qui invece le ho fatte un pochino più rozze questo anche per risparmiare prima ma comunque poi fate come vi sembra più opportuno facciamo ctrl z per rimetterle dove sono e poi duplichiamo le ruote nella parte posteriore quindi facciamo shift d vedete che con shift d le ruote si duplicano facciamo y in modo tale da x invece le muoviamo solo lungo l'asse x le mettiamo verso il fondo e quindi abbiamo le ruote posteriori quindi queste ruote posteriori gli diamo un nome invece che ruote anteriori 001 le chiameremo ruote posteriori ok ora facciamo lo stesso giochetto di prima anche per le ruote posteriori quindi cosa vuol dire selezioniamo la macchinina gli aggiungiamo un modificatore boolean diciamo di fare la differenza con l'oggetto che a questo punto è diventato le ruote posteriori e poi applichiamo ok allora abbiamo le nostre ruote anteriori diamo un nome a queste ruote quindi chiamiamole ad esempio ruote e poi le duplichiamo quindi avendole selezionate facciamo shift d vedete che le duplica e facciamo clicchiamo x in modo tale da spostarle solo lungo l'asse x le portiamo nel posto giusto e a questo punto abbiamo quindi una copia delle nostre ruote clicchiamo insieme questa copia con shift e la parte anteriore e facciamo ctrl j in modo tale da avere un unico oggetto che si chiamano ruote quindi ruote è l'oggetto delle ruote davanti più le ruote di dietro selezioniamo ora la nostra macchina di sopra e aggiungiamo modificatore booleano il nostro obiettivo è quello di togliere le ruote in qualche modo cioè scavare le ruote dalla macchinina quindi faremo difference quindi la macchina sarà ottenuta con booleano difference con le ruote e poi facciamo applica e a questo punto se abbiamo fatto ciò che ci immaginiamo selezionando le ruote queste vedete che risultano aver scavato nella macchinina che era quello che ci interessava facciamo ctrl z e mettiamo le ruote un pochino più in basso in modo tale da far risultare questa scanalatura ok ora prima di andare alla texturizzazione proviamo ancora ad aggiungere i finestrini per aggiungere i finestrini andiamo sulla macchinina andiamo in edit mode selezioniamo le facce selezioniamo la faccia questa e poi cerchiamo di fare un inset i inset quindi i.1 invio vedete che forma una specie di cornicina poi selezioniamo questa facciamo i.1 invio e poi facciamo questo i.1 invio e poi qua facciamo i.1 invio e così abbiamo fatto le cornicine che delimitano i vetri ora successivamente dobbiamo semplicemente assegnare dei materiali con dei colori per colorare questa macchinina come facciamo a farlo andiamo in edit mode e andiamo qui dove ci sono i materiali vedete questo tastino e chiamiamo il materiale principale quello chiamiamolo rosso la carrozzeria la facciamo rossa e gli mettiamo proprio il colore rosso quindi il colore rosso per esempio questo qua quindi è diventato un bel rosso fiammante lo oscuriamo leggermente e questo è il colore di tutto ora quello che vogliamo è che i vetri invece li vogliamo fare di un colore diverso tipo blu quindi aggiungiamo qua più un materiale che a questo facciamo veramente un nuovo materiale che è questo che per noi è il vetro a cui diamo un colore che invece di essere rosso gli diamo un azzurrino brillante tipo questo ora a questo punto non ci resta che selezionare i vetri appunto quindi facciamo shift questo con il tasto destro shift questo e shift questo quindi abbiamo selezionato tutte le parti che sono vetro della macchina selezioniamo qui il materiale vetro e facciamo l'assigne quindi assigne e vedete che la parte vetrata è messa a posto ora invece dobbiamo creare e selezionare e definire dei materiali per le ruote quindi le ruote cosa facciamo selezioniamo quindi andiamo in object mode in modo da poter selezionare appunto queste ruote ora qui converrebbe magari per semplicità nascondere la macchina quindi cosa facciamo in object mode selezioniamo la macchina e facciamo h hide in questo modo abbiamo soltanto le ruote le possiamo vedere di fronte così e possiamo selezionare soltanto la parte che ci interessa che sono le ruote appunto quindi andiamo in edit mode con tab quindi andiamo quindi selezioniamo il nostro oggetto poi tab andiamo in edit mode e dopodiché usiamo la selezione a pennello con c c di como quindi c vedete che c'è il pennello e spennelliamo le parti che vogliamo selezionare e col control possiamo togliere le parti che non ci interessano ok in modo tale e poi invio alla fine per selezionare tutto quindi vedete che in questo modo però vedete che abbiamo selezionato male perché ci manca la visione raggi x che c'è utilissima quindi facciamo z per vedere raggi x o se no appunto possiamo sempre usare il pennello come abbiamo visto prima oppure facciamo aprire da selezionare possiamo usare anche il b quindi b seleziona soltanto questa zona qua e poi b selezioniamo soltanto questa zona qua ok e così vi ho selezionato tutte le quattro ruote e su queste vogliamo assegnarle a il materiale corrispondente alle ruote quindi più per avere lo slot new per avere il materiale nuovo chiamiamolo ruota il materiale associato alla ruota supponiamo che il colore della ruota sia un nero scuro una cosa di questo tipo quindi cosa facciamo avendo selezionato questa cosa facciamo assign e quindi in questo momento se facciamo z per vederlo vedete che adesso qui non si vede benissimo ma le ruote sono diventate perché è già un po' nero di suo eventualmente per vederlo più chiaramente possiamo metterci un colore un pochino ecco vedete che man mano che cambia il colore vedete che cambia quindi va bene è nero in realtà ha messo abbiamo associato in realtà le ruote a questo colore però visto che c'è soltanto questo materiale anche l'asse prende lui per riuscire a selezionare solo l'asse cioè ciò che non sono le ruote possiamo semplicemente andare in edit mode dove avevamo ancora la selezione attiva e facciamo ctrl i per selezionare solo le parti degli assi e su questo asse gli aggiungiamo un materiale più new e mettiamo l'asse e l'asse lo mettiamo invece di un colore marroncino per esempio da queste parti qua però lo facciamo un pochetto più scuro così ad esempio e facciamo l'assigno l'assigno ora a questo punto vedete che abbiamo le ruote nere e l'asse marroni ora in object mode manca la macchinina per farla riparire facciamo alt h eccola qua vedete che la macchinina quindi è già a posto ora prima di andare avanti solo una piccola cosa volendo per renderla un pochino meno banale la macchinina si potrebbe selezionare in object mode la macchinina e aggiungerci un modificatore sub surf subdivision surface aggiungendo questo operatore e poi mettendo view 2 vedete che la macchinina diventa un pochino più strana stramba quindi meno squadrata però vedete che essendo che erano due pezzi il modificatore si è applicato soltanto all'oggetto macchinina e non alle ruote che sono rimaste belle diciamo normali ok prima di andare avanti ricordiamoci di applicare il modificatore alla nostra macchinina quindi applichiamolo apply ok e poi però vogliamo unire insieme per poter produrre il nostro ovimap qui la ovimap vedete che è stata ottenuta ampliando quindi con la tecnica che abbiamo visto la volta scorsa in cui si è creato dal destra dalla destra un quindi ne facciamo perché qui l'avevo fatto prima quindi semplicemente qua abbiamo aperto e abbiamo creato un uv image editor però qui la macchinina deve essere un pezzo unico per avere una uv mappa su cui lavorare quindi clicchiamo le ruote clicchiamo la nostra macchina e facciamo ctrl j in questo modo abbiamo un unico pezzo su cui fare la nostra uv map molto semplice andiamo in edit mode edit mode e facciamo selezioniamo con A tutti i punti e facciamo u smart uv project facendo smart uv project vedete che la macchinina viene ampiamente dunque a seconda di come l'avete fatto voi può venire una cosa diversa comunque viene generata una uv map in cui c'è tutto il profilo della macchina laterale i due lati la parte centrale in alto e così via e sono tutte più o meno diciamo vedete che questo qui a seconda di cosa ho selezionato vi fa vedere quali sono le facce però selezionandolo tutto viene fuori tutta la uv map ora la genialità di tutto questo sistema consiste nel fare il baking su questa uv map di tutti i colori che noi abbiamo fatto quindi mettere il rosso dove è rosso il blu dove è blu il colore nero sulle ruote e così via questo lavoro ce lo fa automaticamente una funzione di baking quindi dobbiamo fare il baking il baking si fa andando qua sulla macchina fotografica e poi cerchiamo la modalità di baking che è qua in fondo baking ora però prima di fare il baking dobbiamo fare attenzione perché se qui il baking vogliamo fare è il baking delle textures se cercassimo di fare il baking adesso ci darebbe un errore perché non ha trovato niente su cui fare il baking quindi bisogna creare un posto dove pitturare dove scrivere insomma incidere la nostra cosa quindi facciamo immagine nuova immagine la chiamiamo baking togliamo l'alpha per il momento ok vedete che è diventata tutta nera e a questo punto se facciamo il baking il baking riesce a essere fatto vedete che fa nei colori giusti tutto ciò quindi il rosso finisce nelle parti rosse il blu finisce nelle parti che dovrebbero essere blu e così via tutte le altre parti se andiamo in object mode vedete che abbiamo effettivamente il nostro tracciato però non è mica finita perché questa UV map deve essere applicata alla macchinina che non lo è adesso la macchinina ha tot materiali lo possiamo vedere qua che ha tutti i materiali che ho visto rosso vetro ruota asse eccetera ora possiamo duplicare volendo se volessimo conservare le nostre cose quindi facciamo shift d e dupliciamo la macchinina in modo tale da lavorare su una copia della macchinina perché se lavoriamo su questa copia ok poi eventualmente se dovessimo rifare questa operazione sul cioè cambiando la macchinina possiamo lavorare sull'originale ripetere questo ultimo pezzo di texturizzazione complessiva quindi andiamo sulle nostre copie questa e semplicemente gli cancelliamo meno 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 tutti i materiali e gli aggiungiamo uno solo di materiale che chiamiamo backing ok ora su questo materiale di backing vogliamo mettere l'immagine che abbiamo appena costruita che abbiamo chiamato backing quindi andiamo qua gli aggiungiamo new un'immagine l'immagine non è la cloud di default ma è immagine o movie la andiamo a prendere perché ce l'abbiamo già nell'elenco delle immagini già fatte backing questa e dobbiamo sottolineare che viene applicata quindi la mappatura quindi l'applicazione di questa texture viene fatta attraverso una UV map ed è l'unica UV map che abbiamo che è questa ok quindi a questo punto in realtà questa macchinina è stata dipinta correttamente ma non la vediamo per riuscire a vederla ci sono due sistemi o facciamo la foto F12 magari ecco qui è troppo vicina la cosa quindi dobbiamo cercare di eventualmente prendere questa che è la nostra camera e girarla in modo tale da vedere la nostra immagine quindi facciamo F12 niente vabbè allora la tecnica più semplice suppongo che sia andare in display quindi è un display e diciamo di vedere texture solid perfetto allora vedendo texture solid a questo punto vediamo la nostra immagine o in questo caso può darsi che ci sia un problema vedete che il texture solid ce le fa vedere un po' strane questo probabilmente vuol dire che se succede questo che le normali sono sbagliate quindi semplicemente selezioniamo il nostro oggetto e gli facciamo ricalcolare le normali facciamo ricalcolare delle normali e la stessa cosa la facciamo anche sul nostro oggetto originale in cui facciamo ricalcolare delle normali deve essere però in edit mode e facciamo troviamo le nostre eccole qua normali ok perché se le normali sono sbagliate vengono viste anche poi quando vengono portate in second life in modo erroneo quindi vedete che il meccanismo che abbiamo usato in questo caso era sbagliato e soltanto vedendolo con il questo display siamo riusciti a vedere l'errore ora a questo punto in realtà quello che dobbiamo esportare eventualmente in second life è sostanzialmente questa immagine quindi facciamo save as image di questa immagine e poi selezioniamo la nostra immagine texturizzata cioè quella con la vmap non questa qua che abbiamo visto che aveva tutti i materiali ma questa che c'è solo il materiale di backing e lo esportiamo con l'ADA quindi facciamo export con l'ADA ricordiamoci di selezionare tra gli operator presets la funzionalità second life static che in sostanza mette dei tick in punti strategici i più importanti sono selection only e apply modifiers a questo punto questo ci esporta un punto con l'ADA e questo con l'ADA può essere esportato in second life e se importiamo in second life anche l'immagine a quel punto basterà trascinare l'immagine sulla mia macchinina in second life per vederla texturizzata come mi aspetterei che lo sia ora questo è tutto per la seconda lezione vedete che è molto dense ma i concetti sono molto molto importanti e quindi è importante che voi vi acclimatiate con questi concetti quindi su come associare tutti i materiali su come poi fare il baking di tutti i materiali su un'unica immagine che poi useremo questa immagine per fare una texture semplificata perché nei videogame in second life è opportuno avere poche immagini e possibilmente fatte con questo trucco questo trucco dell'UVMAP quindi questo è tutto per questa seconda puntata ci vediamo la prossima volta